Nei corridoi della sede di Pavia si vedono ancora questi cartelli, cerchiamo nuovi professionisti per affrontare nuove sfide, porti in maugeri, professionisti di talento, medici e infermieri potranno costruire la loro carriera e tu avrai un riconoscimento. Si riferiscono a un'iniziativa lanciata alcuni mesi fa dall'azienda per chiedere ai dipendenti di proporre potenziali candidature, viste le carenze negli organici. L'incentivo in denaro ammonta a 4.000 euro lordi per chi segnala un medico e a 2.000 euro lordi per chi segnala un infermiere, un terapista o un tecnico sanitario, ma a distanza di mesi appunto la situazione del personale non è migliorata, anzi, agli istituti maugeri mancano ancora medici e infermieri e l'iniziativa, sottolineano dalla UIL, non ha avuto particolare successo. Non sta funzionando, anzi, noi siamo a conoscenza che molti infermieri e molti medici si stanno dimettendo per andare a lavorare altrove, quindi come sindacato diamo un consiglio all'azienda, non facciamo procaccia all'amico, che è una cosa che tanto abbiamo visto che non funziona, cerchiamo di fidelizzare i dipendenti che ai 30 anni che lavorano per voi, che magari qualche soluzione al problema degli organici potremmo anche risolverla, trovarla. Detto questo, credo che il problema non sia inerente solo a maugeri ma sia inerente un po' tutto al territorio pavese. Ecco, che cosa dire? O ci svegliamo a livello regionale, nazionale e quindi si trovano delle soluzioni valide alternativa alla sostituzione del personale mancante o ahimè per Pavia non sarà un bel momento, anche perché come tutti sapete a Pavia più che ospedali oggi non ci sono, l'attività tra virgolette che portano la moneta in casa dei lavoratori è quella, la salute della nostra cittadinanza è sempre stata gestita a livelli altissimi e in questo momento mi sento di dire che probabilmente l'efficienza che una volta c'era a Pavia oggi non c'è più. La mancanza di medici e infermieri in realtà riguarda un po' tutti gli ospedali pavesi, sottolinano dal sindacato. A San Matteo si vocifera addirittura che ci possano essere problemi per la concessione delle ferie estive proprio perché non c'è abbastanza personale nei reparti. Su questo caso la UILA ha già annunciato battaglia. La carenza degli organici, noi abbiamo fatto, adesso si stava parlando di maugeri, però visto che il problema di carenza organica è un po' trasversale su tutto il territorio, abbiamo fatto anche una richiesta di incontro al Policlinico San Matteo qualche giorno fa perché si vocifera addirittura che i dipendenti non riusciranno a fare le ferie estive. A me sembra veramente che probabilmente i nostri eroi, visto che erano eroi, e sono tuttora per noi eroi, professionisti d'oro, probabilmente sono stati dimenticati da tutti. Sappiamo che questo problema c'è anche in azienda ospedaliera, SST, e quindi speriamo che le direzioni generali facciano il loro lavoro perché sono pagate per fare il loro lavoro. Continuerete a chiedere incontri, insomma, a cercare di fare chiarezza su queste situazioni? Noi continueremo a rompere le scatole a tutte le varie aziende, pur sapendo che le risposte che ormai le aziende ci danno è che non è competenza loro, perché c'è da dire questo, perché tutto quello che dicono e quello che ci riportano è che la colpa è di qualcun altro che è sempre più in alto, è sempre più in alto, è sempre più in alto, però a questo punto chi c'è in alto o si dà una mossa veramente, oppure ripeto, la situazione pavese è veramente drastica sul personale sanitario.